Paura all'isola dei famosi per un incidente che sarebbe capitato alla bella e simpatica Simona Ventura. La famosa naufraga ex conduttrice di questo programma infatti avrebbe fatto una brutta caduta durante lo svolgimento della prova. Per eleggere i leader della settimana si sarebbe frita le belle gambe ed anche il naso. Piana di rinta e di energia da vendere, come al solito la pimpante Simo si sarebbe eroicamente rialzata portando a termine il percorso per poi accompagnata a recarsi in infermeria per farsi medicare. Sono contenta avrebbe detto alla bella Simona perché l'ho scampata bella e anche per l'accoglienza del gruppo questa è la mia nuova famiglia. Uno spavento che però non ha avuto gravi conseguenze per fortuna per la bella naufraga dato che se la sarebbe cavata solo con qualche taglietto e nessun tipo di danno al naso che avrebbe già operato la bellezza di tre volte. Vi ringrazio per l'ascolto gentili utenti di youtube, vi ringrazio per la gentile visione. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate. Questo video non vuole eledere la prenosi della bella Simona Ventura, vuole solo informare eventuali persone di quello che sarebbe capitato alla bella Simo, a cui va tutta la mia vicinanza e tutto il mio rispetto. Grazie.